Ora, sono giunto qui, in questa città della Grecia, per manifestare il Dio fra gli uomini. Andiamo a pensare di ogni giorno. E' un problema, ma io personalmente non riso solo. Alcanto a me, ma tu non lo vedi. Ah, basta! Guardia, prendetelo. Ha oltraggiato me e la città di Tepe. Ti consiglio di non farlo. Lo dico da uomo saggio a uomo dissennato. E io dico di legarti, dal momento che sono più potente di te. Tu non sai quello che fai, né ciò che dici, nemmeno chi sei. Come non lo so? Come? Sono Penteo, figlio di Agave Vecchione! Il palazzo di Penteo, me l'ha distrutto dalle scotte! Vieni dal palazzo, veneratelo! Come vediamo! Le vedete, le ruote di pietra massiccia che travallano sopra le colonie. E' Dio dello Stem, che alza il suo grido nell'edificio! Accendi, tifozo di mappaggio del Penteo! Crucia, crucia le case di ferie! Lui che prima era ritenuto invincibile! Ora vado a vestirlo! Andrà nel lago, sgozzato dalle mani di sua madre! Conoscerà Lila di Dioniso, figlio di Zeus, nato come un dio! Il più terribile fra gli dei! Non è un leone! E' Penteo! Chi l'ha ucciso? Se aveste agito con saggezza, ora sareste felici e io, figlio di Zeus, sarei il vostro patrono. Grazie!